Quest'anno abbiamo devoluto il ricavato di quella che è stata la settima edizione di note su Ali di Farfalla all'associazione Abil Byte, una onlus di Atri, il cui presidente è Manolo Pelusi. Siamo molto felici di questo traguardo perché appunto è il settimo dopo tanti anni, dal 2009 sostanzialmente noi facciamo queste attività e sono tutte attività dedicate alla memoria di Federica e Serena che sono due ragazze appunto il cui nome lo porta appunto l'associazione che si chiama Federica e Serena che sono rimaste vittime del terremoto all'Aquila erano studentesse di medicina, Serena Scipione di Bisenti e Federica Moscardelli di Montorio. Tutte queste attività ogni anno hanno portato al raggiungimento di un traguardo per noi importantissimo. Quest'anno infatti devolviamo 3.000 euro, non saranno una cifra esorbitante però per noi è veramente tanto perché abbiamo poi organizzato queste attività mettendocela tutta e poi è stato un grande arricchimento per noi perché siamo stati in grado e abbiamo avuto la fortuna di conoscere comunque delle realtà che molto spesso sono fuori dalla portata degli occhi quotidianamente. Il prossimo appuntamento sarà la prossima edizione di Note su Ali di Farfalla, Notte per Federica e Serena che ci sarà l'8 settembre al Chiostro Madonna delle Grazie a Teramo. Ospiti saranno la cantotrice rock Cristina Donà e Filippo Graziani, figlio dell'indimenticabile Ivan. Questa serata sarà corredata da tante sorprese e il ricavato delle attività di quest'anno andrà all'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. Grazie. 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 Grazie.